se avesse avuto un filo d'aiuto dalla famiglia del marito. Se cerca qualcuno a cui attribuire la colpa, Sally, l'avverto che dovrebbe attribuirla a se stessa. Lei, mia cara, è la madre. Si suppone che le abbia inculcata dei valori. Ma che razza di valori potrebbe inculcare lei che non ha avuto un rapporto sano in tutta la sua vita? Che cosa? Che cosa? Come che cosa? L'ultimo marito l'ha comprato e non è riuscita a tenerselo neanche comprandolo. Adesso comincio finalmente a capire qual è effettivamente il problema che ha con me. È invidiosa, non è vero? È invidiosa perché a differenza di lei io ho un uomo meraviglioso, che mi vuole bene, che ha molta stima di me. Un amico, un valido compagno che resterà accanto a me per tutta la vita. Sì, capisco perfettamente di che si tratta ora. Lei pagherebbe oro pur di trovarsi a...